E fuga vera, probabilmente quella buona, non ancora decisiva. Il Frosinone sfrutta appieno il turno casalingo battendo il Prato e approfitta del rallentamento del Perugia uscito indenne dall'Aquila. Ciociari determinati a trovare un successo firmato da Dario Biasi, bravo a riprendere una respinta del portiere su punizione di Goucher e dal solito Curiale, undicesimo centro per lui, quattro nelle ultime cinque gare. Tre punti che diventano cinque nel vantaggio rispetto al Perugia in fase calante e salvato dal portiere di riserva Stillo contro l'Aquila. Infatti sono gli abruzzesi ad avere la migliore occasione per sbloccare lo 0-0. Pia viene atterrato in aria da Koprivez, per lui rosso diretto, ma dal dischetto lo stesso Pia si fa ipnotizzare dal secondo portiere Stillo. Ad approfittare di questo pareggio è il Catanzaro che la vittoria la trova con un difensore goleador quale Sabatino. A due minuti dal novantesimo è suo il colpo di testa vincente su cross di Russotto che regala ai calabresi il quarto posto alle spalle del Lecce, vittorioso con la tripletta di Miccoli sulla Ponte d'Era. Catanzaro che stacca anche il Pisa, passato dalla possibile goleata al pareggio casalingo contro il Benevento. Napoli sul rigore e forte con un potente diagonale in appena 13 minuti dal ventesimo al trentatresimo fissano il punteggio sul 2-0. Piscitelli evita il tracollo del Benevento deviando una conclusione di Napoli prima che Guerra con il suo colpo di testa rimetta in corsa i Sanniti che agguantano un pari insperato all'ultimo minuto di recupero con Melara. Benevento agganciato a quota 40 dalla Salernitana grazie ai tre punti a tavolino contro Nolo Cerina e tre lunghezze avanti rispetto al Ponte d'Era che al momento occupa l'ultimo posto utile per i playoff. Al nono posto prova a puntare il Gubbio dopo il 2-0 a Barletta. Alla prossima stagione pensano Ascoli e Viareggio. I marchigiani comunque si regalano una vittoria con i gol di Tripoli e Carpani. Tra i toscani, secondo le parole del tecnico Lucarelli, molti dovranno cercarsi un'altra squadra se l'ex bomber dovesse restare a guidare la formazione bianconera. Grazie.